Buonasera e ben trovati e ben ritrovati con Mondo Wilshire per questo primo appuntamento del 2024 dagli studi di Super J Adriatica grazie alla regia di Pietro Baldazzarre per quanto riguarda ovviamente un saluto al padrone di casa Fabio Talamonti che per un'indisposizione fisica non è con noi questa sera e non è soprattutto con voi che siete abituati a vederlo. Lo sostituirò io questa sera ma ovviamente al focus, al centro dell'attenzione ci sarà sempre il basket in carrozzina, la serie A1 e soprattutto il mondo dedicato all'amicacci Abruzzo che ha iniziato il 2024 con una grande vittoria e allora vado a salutare subito gli ospiti partendo da Giulia Blasiotti giocatrice dell'amicacci Abruzzo, buonasera e grazie di essere con noi. Andrea Corsi, il vice allenatore della formazione della Deco Metal Ferro Amicacci Abruzzo, buonasera a tutti. Ovviamente li ritroviamo per questo appuntamento con Mondo Wilshire ma soprattutto parleremo del successo della squadra di Coaci Carlo Di Giusto ottenuto a Taranto ma parleremo anche di tanto altro perché intanto alle porte sabato ci sarà una gara sicuramente molto molto importante ma parleremo della Coppa Italia, di altri eventi che ci sono stati e di un 2023 che si è chiuso e che ha regalato grandi gioie all'amicacci Abruzzo. Allora intanto grazie alla regia di Pietro Baldassare io direi di andare a vedere quello che è successo nel fine settimana con i risultati per quanto riguarda il basket in carrozzina di Serie 1 partendo dal girone A, Porto Torres, Reggio Calabria 62-68, Santa Lucia, Briantea Cantù 42-81, Santo Stefano, Bergamo Sport 67-54, ovviamente parliamo della non aggiornata, la quarta di ritorno. La classifica per quanto riguarda questo girone A con la Briantea Cantù a punteggio pieno 18 punti, Santo Stefano 16, Reggio Calabria 10, Bergamo Sport 8, Porto Torres 2, Santa Lucia che chiude con 0 punti. Andiamo a vedere anche quello che è successo nel girone B che ci interessa maggiormente da vicino perché è presente l'amicacci Abruzzo, vittoria esterna come dicevamo 55-46 sul campo di Taranto, nell'altra gara disputata Dinamo Sassari che ha battuto Wilshire Sport Firenze 71-48 ha riposato Treviso. Questa la classifica al termine, praticamente una giornata dalla conclusione della stagione regolare, Dinamo Sassari 14, amicacci Abruzzo 12, Wilshire Sport Firenze e Treviso 4, Bois Taranto 2 punti. Considerando appunto il fatto che siamo ad una giornata dalla fine della regular season qualche verdetto è stato già emesso soprattutto per quel che riguarda i play-out, ma noi intanto ci concentriamo su quello che è stato al Palamazzola e ci facciamo raccontare la partita mentre possono scorrere anche le immagini della gara giocata in terra e Ionica proprio con Andrea Accorsi perché è stata intanto una vittoria importante per tenere acceso quella speranza di concludere ancora al primo posto, poi avremo modo di parlarne. Sì, è stata una vittoria importante anche se è stata una vittoria sofferta. Certo che uno stop, noi siamo stati fermi anche l'ultimo turno perché abbiamo riposato quindi praticamente uno stop di un mese abbiamo avuto e quindi ritornare a certi ritmi è stato, abbiamo fatto un po' di difficoltà, siamo stati anche sotto nel secondo e nel terzo quarto ma poi alla fine della gara è venuta fuori un pochettino di esperienza e il nostro valore. Certamente Taranto ha fatto una bella partita, ci ha messo in difficoltà, però a noi questi due punti servivano anche perché la settimana prossima così possiamo sempre, per ribaldare la situazione dobbiamo vincere di 20, di 21, però la possibilità c'è, la voglia c'è e ci stiamo lavorando. Intanto tenete accesa la speranza anche perché affrontavate una squadra, Taranto è vero che è candidata ai play-out e già matematicamente appunto nei play-out, però veniva comunque da una vittoria esterna a Firenze e si giocava le ultime chance per evitare i play-out. Sì, poi erano al completo quelli che non sono stati all'inizio del campionato, loro adesso hanno questo brasiliano, Luciano da Silva, che porta molta esperienza nella squadra e infatti grazie a lui sono un'altra squadra, non la squadra, non quello che dice il campionato, che sono ultimi, però stanno lavorando penso anche loro per il prossimo anno. A Giulia invece chiedo, proprio quello che diceva prima Andrea, il fatto di essere tornati in campo a distanza di un mese, è vero che voi vi siete allenati, abbiamo sentito anche nell'intervista di in settimana con Carlo Di Giusto con grande entusiasmo perché volate tornare in campo, però può aver influito, anche se voi siete comunque partiti molto bene, avete avuto un buon approccio. Senza dubbio ha influito in parte, perché ovviamente una pausa di un mese non è da tenere in secondo piano, insomma, sicuramente ha influito per la prima parte di gara, il fatto anche di doversi continuare, dover ritrovare quel ritmo, quella competitività, il contatto magari con l'avversario, sicuramente ha fatto. E poi, insomma, tornare ad allenarsi dopo un periodo di stop è anche faticoso poi. Te lo chiedo anche da giocatrice, perché abbiamo visto, la gara è stata giocata a Palla Mazzola, che è una bella struttura, porta degli stimoli quando ha giocato in queste strutture. Sì, io per esempio ricordo di aver giocato in un palazzetto simile quando con la giovanile siamo arrivati a disputare la finale di campionato per il titolo a Bologna, al Paladozza, e era molto simile al Palamazzola. Devo dire che fa sempre un certo effetto ritrovarsi poi in questi palazzetti enormi che possono ospitare tante persone e magari immaginare, anche se in quel momento non c'era molto pubblico, di sparti pieni, ecco, che è sempre il nostro obiettivo, l'obiettivo della federazione è di far portare molti più spettatori nei palazzetti e di far conoscere il mondo del basket. Tornando alla cronaca della gara, per questo ringrazio anche le pagine social dell'amicaccia Abruzzo, curate da Stefano D'Andrea Giovanni, che vado a salutare, ringrazio. Le cronache parlano appunto di un ottimo approccio al match, poi nel quarto avete un po' sofferto il ritorno proprio di Taranto, grazie proprio al giocatore che nominavi prima, da Silva. Però devo dire che in questa gara probabilmente l'apporto di tutti i giocatori è stato importante, perché abbiamo visto nel finale Marchionni, Barabibai ha avuto punti importanti, benvenuto a un certo punto ha rifirmato il sorpasso. Sì, no, ma Galliano anche all'inizio ha fatto una buona partita. Sì, è stato importante, una buona prova anche di benvenuto, anche di Gailen, Brown, l'australiano. È stato fondamentale l'apporto di tutti perché secondo il terzo quarto abbiamo avuto, a livello realizzativo proprio una debacle importante. Il secondo quarto abbiamo fatto solo sei punti e questo ci fa ben capire dove dobbiamo lavorare e che dobbiamo tanto lavorare. C'è la giornata storta, la giornata storta quella ci può essere sempre, però è vero anche che stando a certi livelli non puoi nemmeno avere questo alibi, diciamo. Può essere anche una nota di merito, vincere su un campo difficile contro una squadra in salute oppure in una giornata non proprio propizia. Sì, sì, no, quello sicuramente, ma infatti per noi erano fondamentali questi due punti, come dicevo prima, anche per rimanere agganciati a lavorare per cercare di ribaldare, e per cercare di ribaldare, per quanto riguarda il campionato, per i play-off, la classifica, diciamo. Per Taranto, come detto, 21 punti di Da Silva, per la Deco Metalferro Amicacci Abruzzo, 10 punti di Brown con 5 rimbalzi e 3 recuperi, 2 punti di Nagel, 10 di Benvenuto con 6 rimbalzi e 3 recuperi, 15 di Gagliano Marchionni, 4 di Cavagnini con 7 rimbalzi, 2 di Greco Bacchus e 12 di Barbie Bay con 8 assist e 6 rimbalzi. Questo è per quanto riguarda il match, che continuiamo a vedere nelle immagini, diciamo un punteggio basso probabilmente. Come dicevo prima, quello che delinea questo punteggio basso è anche, soprattutto, il secondo e il terzo quarto, dove il primo quarto abbiamo chiuso a 16 punti, ma sul secondo quarto ne abbiamo fatti solo 6, e quindi questo fa capire che il punteggio basso viene da questa percentuale realizzativa troppo bassa. Dei tiri sono usciti, come quei tiri che sbattono sul ferro, poi i ragazzi hanno anche lamentato il fatto che i tabelloni erano duri, però i tabelloni erano duri per tutti, sia per noi che per loro, quindi non è una scusa da accampare, diciamo. Però il vostro obiettivo è stato raggiunto con la vittoria che, come detto, alimenta speranza e poi ovviamente avremo modo di parlare del match contro la Dinamo Sassari, che il suo lo ha fatto perché ha vinto la propria gara interna e quindi arriva a questo match di sabato prossimo con due punti di vantaggio e con il vantaggio del match di andato. Invece vorrei andare nel girone A per vedere appunto quello che è successo. Gli risultati li abbiamo letti prima, però in questo caso, anche in questo caso, poche le sorprese. Briantea che continua la sua marcia, Santo Stefano. Per uno scherzo del calendario poi, la classifica dice Briantea, Santo Stefano che si affronteranno sabato, Reggio Calabria e Bergamo e si affronteranno sabato, e Porto Torres e Santa Lucia che si affronteranno sabato. Uno scherzo del calendario proprio all'ultima giornata. Tutto all'ultima giornata si decide. Sì, praticamente sono stati rispettati tutti i pronostici, anche se il Santo Stefano ha dovuto, ho visto la partita, ha dovuto rispetto a tutte le altre partite, anche rispetto all'andata contro Bergamo, che Bergamo mancava dei nazionali, dei brasiliani e degli argentini perché erano i campionati panamericani, hanno vinto facilmente. Invece sono stati in partita per tre quarti, Bergamo, Bergamo è una bella squadra. Sia a Bergamo che come Reggio Calabria per i play-off abbiamo due belle catte da pelare. Soprattutto perché abbiamo detto che sono stati emessi i verdetti. Per quanto riguarda i play-out, ricordiamo il 10 e 11 febbraio, sono già sicure di partecipare Santa Lucia, Porto Torres e Taranto, un concentramento con una sola squadra che alla fine retrocederà in Serie B. Di fatto sono già sicuri, al di là degli accoppiamenti, anche le partecipanti per quanto riguarda i play-off, perché sono le prime quattro di ogni girone, sono Briantea, Santo Stefano, Reggio Calabria e Bergamo per quanto riguarda il girone A e Dinamo Sassari, Firenze, Amicacci, Abruzzo e Treviso per quanto riguarda il girone B. Però gli ultimi 40 minuti dovranno deliberare la griglia. Si partirà sempre comunque il 10 e 11 febbraio, anche se poi prima dell'inizio di play-off e play-out sarà un altro appuntamento molto molto importante di cui parleremo con la Coppa Italia. Al di là, poi parleremo della gara con la Dinamo Sassari, il piazzamento al primo posto è sicuramente molto importante e ambito perché è da diritto, però l'anno scorso ricordiamo che poi l'Amicacci ha avuto una cavalcata trionfata pur non chiudendo al primo posto. Certamente, sì, quello è vero, però si punta sempre ad avere una posizione migliore in campionato per prendere, la prima prende la quarta, la seconda prende la terza. Non sono definite nemmeno la terza e la quarta posizione nell'altro girone perché come dicevo Bergamo hanno uno scontro diretto, Bergamo e Reggio Calabria e sarà tutto alla fine del prossimo turno. Basta, ancora qualche giorno e poi sapremo perché appunto sabato si giocherà l'ultima giornata di stagione regolare. Torno da Giulia, all'andata a novembre contro Taranto avete vinto largamente 71-33, questa volta è stata un po' più difficile perché abbiamo visto che anche Taranto è cresciuta soprattutto con nuovi innesti. Sicuramente Taranto era una squadra, come ha detto prima Andrea, molto diversa rispetto a quella di ritorno perché avevano dei giocatori in meno. E' chiaro che con una squadra al completo, con un giocatore come Luciano da Silva che porta anche qualità ai quintetti che sono in campo, è più difficile riuscire a vincere così ampliamente come abbiamo fatto noi all'andata. E noi eravamo sotto tono, quindi due match completamente diversi l'uno dall'altro e Taranto sicuramente è una squadra con delle potenzialità che può crescere, sicuramente fare il suo percorso e non è da sottovalutare come abbiamo visto nella partita di sabato e le due partite che abbiamo disputato noi sono state appunto completamente diverse l'una dall'altra quindi c'è poco da fare, c'è poco come metro di paragone. Tra parenti sui social ricordiamolo molto aggiornato, quanto riguarda la Deco, Melta Alferro, Micaccia e Abruzzo c'è la possibilità anche di scegliere l'MVP di questa gara in ballo ci sono Gagliano Marquionni, Jalen Brown, Gabriel Benvenuto e Shai Barbie Bay lo faccio dire anche a te che voteresti. Allora, partendo che sono miei compagni di squadra tutti, quindi li sceglierei tutti a quattro se devo essere invece oggettiva sceglierei Gagliano perché è stata quella persona che è riuscita a mantenere la partita anche nelle nostre mani che è riuscita a dare più sicurezza agli altri compagni però tutti e quattro hanno fatto un'ottima partita dal mio punto di vista Gagliano è riuscito di più a livello realizzativo, questo senza dubbio però gli altri tre sono stati ottimi sotto vari punti di vista sia magari dal punto di vista difensivo piuttosto che offensivo e così via hanno portato il loro contributo in questo senso al match contro Taranto possono votare come abbiamo visto sui pagine social con gli emoticon ma anche sulla pagina Instagram per quanto riguarda invece la gara di Taranto chiudiamo il discorso dicendo anche che è stata la vittoria importante permette alla Micacci di stare ancora a meno due dalla Dinamo Sassari quindi invece io a entrambi chiedo una cosa perché a Giulianova oramai siete da diverso tempo vado sempre da Giulia l'essere allenati da Carlo Di Giusto che è un allenatore comunque di grande esperienza con uno staff importante con Andrea anche che stimoli dà, quali sono i consigli che arrivano? è un percorso pressoché sempre in crescita perché le situazioni magari cambiano però Carlo le sa affrontare perché ha tanti anni di esperienza alle spalle ne ha vissute tante sia con i club che con la nazionale quindi sa dare i giusti consigli al momento giusto e io ho percepito proprio la differenza tra un allenatore come Carlo che ha tanti 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 anni di esperienza e a me ha allenato anche il vice allenatore Gemi e Andrea Corsi hanno allenato perché allenavano nella giovanile qualche anno fa in Serie A e giustamente il confronto si vede perché l'esperienza fa tutto alla fine ovviamente nulla da togliere sia da Andrea che a Gemi hanno fatto un ottimo lavoro nel corso di questi anni ma l'esperienza di Carlo si vede è un percorso sempre in crescita, si imparano sempre cose nuove Andrea non chiedo di esprimersi sull'MVP ma Carlo Di Giusto è un coach da questo punto di vista esigente? Sì, certamente che è esigente alla fine il basket in carrozzina è come qualsiasi altro sport cioè ci vuole quello che si fa in allenamento parte tutto da un buon allenamento perché quello che si fa in allenamento poi viene portato in partita è il lavoro che fa Carlo, il lavoro che fa anche Gemi qualche volta quando li aiuto io è praticamente quello che fanno tutti gli allenatori devi cercare di mettere a posto quello che non è andato quello che non è andato in tutta la settimana e poi devi cercare di tenere un buon gruppo e di tenere gli equilibri tranquilli come tutte le squadre però Carlo diciamo che dalla sua esperienza vede ha quel qualcosa in più che magari dei giovani giovani, giovani una volta come noi come Gemi magari può sfuggire però avere un coach che è anche allenatore della nazionale proprio a Giudanova con l'amicaccia è sicuramente un quello è sempre un valore in più ma un grande valore aggiunto lo ringraziamo sempre Carlo perché ti dà quel qualcosa in più che serve per arrivare all'obiettivo poi torno da Giulia perché poi ne avremo modo di parlare anche perché andare a fare un bilancio del 2023 che ha regalato grandi gioie dopo lo primo stacco pubblicitario ma come avete ritrovato venite da una stagione in cui avete coronato un sogno quello di portare il primo scudetto l'amicaccia a Bruzzo poteva arrivare anche alla Supercoppa poi ne parlavamo sarebbe stato un fantastico double ma soprattutto questa stagione contro la Briantia Cantù vincendolo proprio a Meda tra parentesi quando hai ripartita la stagione lo chiedo ai rappresentanti giocatori da questo punto di vista la squadra come avete ritrovato gli stimoli soprattutto per disputare un altro campionato e soprattutto per restare sempre ai vertici? è una domanda abbastanza complessa perché la base è che il gruppo è completamente diverso abbiamo cambiato tanti tanti atleti rispetto all'anno scorso abbiamo preso quest'anno dei giovani che credo hanno del potenziale ma lo devono ancora scoprire questo soltanto il tempo lo potrà farglielo scoprire ritrovare la sintonia tra i giocatori che avevamo conquistato l'anno scorso è stato molto complicato perché all'inizio non eravamo neanche tutti quindi è stato molto difficile e il gruppo per forza di cose non poteva essere lo stesso e uguale all'anno scorso le persone giustamente sono diverse quindi anche dal punto di vista atletico piuttosto che le potenzialità che hanno i ragazzi non sono le stesse che hanno avuto i giocatori che abbiamo avuto l'anno scorso e questa è la motivazione E allora noi ci fermiamo per il primo stacco pubblicitario a risentirci fra qualche minuto Eccoci tornati per la seconda parte di questo primo appuntamento del 2024 con Mondo Wilshire ringrazio sempre Pietro Baldassarre in regia siamo dagli studi di Super J Adriatica qui a Giulianova proprio da un passo dalla sede degli amicacci Abruzzo se io sia Giulia che Andrea nomino la data del 22 aprile abbiamo accennato prima è stato un 2023 che si è concluso con la classica cigina sulla torta ovvero la conquista del tricolore il primo scudetto della storia dell'amicacci Abruzzo siccome prima Giulia ci ha risposto ancora già sul tema poi solleciterò ancora chiedo ad Andrea Corsi il fatto la lotta contro la Briantea Cantu il fatto di aver vinto lo scudetto a Meda si veniva dall'anno precedente dove teoricamente tutti pensavano che potesse esserci in quella stagione lo scudetto perché c'erano ancora due gare al Palacastrum invece l'anno dopo c'è stata questa grande reazione dimostrazione anche di grande carattere abbiamo fatto il contrario abbiamo fatto il contrario no la felicità è stata è stata una cosa grandissima che poi io sono sono prima da giocatore poi da allenatore sono in società io ho fatto un incidente stradale appena dopo aver fatto l'incidente stradale quindi nel 2006-2007 già ero qui a Giulia Nova io sono di Ascoli penso che si senta un pochettino l'accendo di fuori regione e quindi è stata un'emozione ma già dalla vittoria della Supercoppa perché abbiamo vinto la Supercoppa dell'anno precedente e niente è stata scusami è stata una felicità immensa e poi dopo abbiamo fatto anche un ottimo perché in questa stagione spettacolare non tutti se lo ricordano ma siamo arrivati anche secondi in Europa sì, è vero una stagione bellissima 2023 hanno da ricordare da ricordare poi certamente al di là di due secondi posti è stato il trofeo del secondo posto nelle Coppe Europee è già un ottimo risultato lo scudetto è poi quello che ha coronato davvero un sogno soprattutto davvero a questo punto per Andrea Corsi che da Giulia Nova è quasi sempre quindi è stato un percorso una crescita soprattutto esponenziale sì, sì, sì ma poi come ripeto la gioia di vincere un che poi abbiamo vinto meritatamente sia gara 1 che gara 2 quindi nessuno ha avuto da recriminare su niente è stata diciamo la ciliegina sulla torta di quella che potrebbe essere anche una carriera come no? perché tante persone arrivano a fine carriera senza aver senza aver magari vinto quella quella cosa quella cosa che diciamo ti fa non a caso quest'anno sulle canotte della amica c'è Abruzzo c'è il tricolore quindi da questo punto di vista anche sull'altra felpa forse ho visto quella sbagliata sull'altra felpa pure c'è il tricolore soprattutto sul cuore sopra il cuore l'abbiamo visto il tricolore soprattutto quest'anno state ancora ai vertici chiedevo a Giulia appunto il fatto l'anno precedente ci si è andati vicino c'è stata la doppia sfida poi diventate tre gare contro la Briantea Cantù nel 2023 invece considerato nella stagione 2022-23 anche la Supercoppa vinta sempre contro la Briantea siete diventati la bestia nera voi della Briantea Cantù il paragone è perfetto perché l'anno prima parlarne mi fa ancora male al cuore ci è mancato un piccolo punticino per arrivare a quel risultato che poi abbiamo raggiunto l'anno successivo però è andata bene così perché è stato completamente inaspettato e quando le cose sono inaspettate sono diciamo vissute ancora con più emozioni rispetto a quando te l'aspetti quindi secondo me è andata benissimo così poi c'è stata anche la Supercoppa giocata anche in casa contro Santo Stefano a novembre ve la siete giocata fino all'ultimo da questo punto di vista però la Supercoppa è andata a Santo Stefano sarebbe stato un bis dopo quella vinta l'anno precedente sì anche lì è stata alla fine noi abbiamo fatto non una buona gara non abbiamo fatto una buona gara loro sono stati bravi lo sapevamo che loro sono bravi e niente c'è un rimpianto perché c'è un rimpianto secondo me per me perché ce la potevamo tranquillamente giocare ce la potevamo tranquillamente giocare è stata una giornata è stata una giornata lì pure pure al tiro così e così abbiamo sbagliato abbiamo sbagliato tanto loro sono stati loro sono stati bravi niente purtroppo non si potrebbe vincere sempre anche perché ogni campionato sarebbe una squadra solamente abbiamo visto prima le immagini del Palà Mazzola anche Giulia ci diceva bella struttura però magari poco pubblico a Giulianova invece si è creato un grande bel entusiasmo abbiamo visto tornando a quelle finali con la Brina de Cantucci era il pienone abbiamo visto anche durante la Supercoppa tanta gente ma il pubblico che vi siete vi segue con grande affezione anche durante le partite interne questo pubblico diciamo che ce lo siamo conquistati e anche sudati perché sono anni che noi vediamo un palazzetto sì con tante persone però non come quando ci sono state le finali e non come quest'anno che siamo appunto diventati campioni d'Italia e le persone vuoi o non vuoi fa notizie del fatto che hai una squadra che ha vinto un titolo in città quindi automaticamente la voce si è sparsa e qualcuno si è incuriosito e la cosa a me fa più che piacere perché vedere un palazzetto pieno con persone che ti fanno che gli piace oggettivamente quello che fai quello che vedono per me è una grande conquista anche perché poi vai in questi palazzetti enormi dove invece non c'è tanta gente quindi poi lì ti dispiace anche perché ti metti anche nei panni degli altri giocatori e pensi magari che vorrebbero anche loro avere un pubblico come il nostro che io reputo speciale perché il tifo di quest'anno è immenso è strepitoso Coach? Sì il discorso dove sta? Il discorso sta nel fatto che avere un palazzetto troppo grande nel Palamazzola anche i nostri anche i nostri splendidi tifosi sarebbero sembrati un gruppetto una famigliola sarebbe sembrata e quindi per carità strutture come quelle sono bellissime giocarci è un sogno anche quando anche quando ci è capitato di andare al Palacerra di Mingi a a Sassari o o anche al Paladozza quando siamo stati bellissimo però cioè non è un palazzetto dove 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 noi possiamo esprimere dove anche la tifuseria di questo sport può esprimere può esprimere il meglio perché certamente vedere un palazzetto bellissimo ma vuoto come era quello che abbiamo visto purtroppo era quello che abbiamo visto sabato perché io l'ho visto anche io da casa perché era influenzato però ho visto saranno state poche persone e vedere anche anche lì metti 100 persone che per il nostro sport sono tante metterle in un palazzetto così da questo punto di vista e lo chiedo soprattutto perché siete andati anche nei palazzetti oltre i confini italiani per giocare le coppe europee la situazione all'estero com'è? Devo dire che all'estero lavorano 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 di più soprattutto in Spagna lavorano tanto e non dico tutte le partite però nei giorni nei giorni quando andiamo a fare le gare di coppa dove ci sono le finali quando ci sono le finali i palazzetti sono c'è molta gente devo dire che in questo in questo lavoro lo sto facendo bene anche tanto la Briantea perché il suo il suo palazzetto lo riempie sempre loro sono bravissimi a lavorare a lavorare per portare persone persone al palazzetto e questo gli va dato atto che fanno su questo fanno un ottimo lavoro a proposito di pubblico poi ovviamente prima di salutarci prima dei saluti finali faremo un appello per la gara di sabato pomeriggio perché è davvero molto importante ma prima di andare proprio a presentare la gara contro la Dinamo Sassari a proposito di coppie europee ricordiamo sempre un appuntamento manca ancora tanto mancano ancora diversi mesi siamo a gennaio l'appuntamento ci sarà dal 25 al 28 aprile ma l'organizzazione sarà curata proprio dalla Amicacci Abruzzo ci saranno le finali di Euro Cup 1 la seconda competizione europea di basket in carrozzina per club saranno dei giorni veramente da vivere in maniera intensa al di là dell'aspetto puramente sportivo che mette in paglia un trofeo importante perché arriveranno grandi prestigiosi club sì al di là di quello al di là dei club che arriveranno ci sarà anche un grosso lavoro da fare perché le squadre sono devono essere devono essere accompagnate e sarà è una bella sfida abbiamo già organizzato tante altre volte finali finali di Coppa una volta anche finali di Champions è una sfida anche questa è una sfida anche questa come il presidente dice sempre sia Peppino che Edoardo dicono che ci serve forza forza lavoro quindi stiamo recuperando questa forza lavoro e speriamo che vada sicuramente andrà tutto al meglio perché noi abbiamo sempre organizzato quando abbiamo organizzato queste coppie ci hanno sempre fatti complimenti quindi penso che andrà bene anche questo sicuramente oltre all'aspetto sportivo poi ovviamente chi meriterà sul campo conquistare il trofeo intanto grazie a Pietro Baldassarre perché dalla regia ci ha fatto vedere proprio la locandina di quello che andremo a vivere dal 25 al 28 aprile che ovviamente la nostra emittente seguirà da vicino con grande piacere ricordo per esempio qualche anno fa la manifestazione con le nazionali che si preparavano comunque alle competizioni ma anche il torneo il torneo itinerante che abbiamo fatto lo scorso anno l'altro torneo che abbiamo fatto due anni fa devo dire che qui Peppino e Edoardo sono bravissimi nell'organizzazione ecco poi qualche lacuna può esserci può esserci sempre però si impegnano molto anche per perché questi tornei che abbiamo fatto servono anche per per una visione a 360 gradi del basket in carrozzina e anche del territorio perché invitando delle 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 squadre estere fai fai anche vedere il tuo territorio un intanto una sorpresa per il nostro Andrea Corsi perché adesso ci sarà una foto che arriva dalla regia con Pietro Baldassarre perché proprio negli ultimi giorni del 2023 Andrea a Corsi vediamo qui proprio presa dai nostri dai social dei Comicacci è stato premiato al Gran Galà dello sport di Ascoli Piceno è vero che era in casa perché di Ascoli però sempre fa bello fa sempre piacere ricevere un premio sì qui ringrazio devo dire che ringrazio l'assessore Nico Stallone che mi ha fatto una sorpresa scusate mi ha fatto mi ha permesso di salutarlo perché ha allenato le squadre di calcio quindi lo conosco benissimo lui è un personaggio mi ha fatto mi ha fatto questa sorpresa perché mi ha detto vieni che ti premiamo ma non pensavo per allenatore dell'anno sicuramente stato bellissimo riconoscimento davvero questo accoronamento di un domenio 23 veramente speciale memorabile speciale ovviamente adesso il focus è già rivolto alla gara di sabato contro la Dinamo Sassari a cui dedicheremo gli ultimi minuti del match ma analizzandola per bene perché tra l'ultima gara di stagione regolare e l'inizio dei playoff quindi adesso si entra nel vivo della stagione vi siete riposati abbastanza un mese adesso si giocherà sempre perché ci saranno anche le gare di Coppa Italia la prima e la seconda classificata al termine della stagione regolare il girone di andata ovviamente hanno partecipato hanno acquisito il diritto a partecipare alle finali di Coppa Italia per il girone A Briantea Cantu e Santo Stefano per il girone B Dinamo Sassari e Deco Metalferro Amicacci Abruzzo sabato 27 gennaio semifinale con la Briantea alle 16 un déjà vu che ritorno quando si parla di Coppa sempre contro la Briantea alle 18 e 30 invece Dinamo Sassari contro Santo Stefano e poi la domenica le finali alle 9 e alle 11 e 30 il trofeo Antonio Maglio si giocherà tutto al pala Alberto Mura di Porto Torre chiedo a Giulia tornate a giocare con la Briantea quando si parla di Coppa come abbiamo detto si parla sempre di questa sfida importante la prima di fatto a livello stagionale dopo quelle passate dell'anno passato dove vi siete affrontati sempre praticamente sì è uno scontro che si ripete e continua a ripetersi all'infinito probabilmente e per quanto riguarda il pronostico di questa gara sarà una gara molto difficile perché la Briantea quest'anno ha un roster incredibile dal mio punto di vista ha degli atleti che sono dei veri atleti professionisti e con un'esperienza alle spalle incredibile partendo da tutti i giocatori che sono nella nazionale italiana come Simone De Maggi Filippo Carossino per poi arrivare a Steve Sirio piuttosto che a Sophie Carregil è una partita molto molto complessa da giocare e ovviamente noi ce la giocheremo fino all'ultimo secondo come sempre ecco sperando anche di essere un po' assistiti dalla Dea Fortuna ecco che io credo particolarmente in questo e sarà una bella partita senz'altro quindi staremo a vedere ecco che poi quando ci sono queste competizioni soprattutto nell'arco di due giorni tanti sono i dettagli e la Dea Fortuna davvero serve tanto 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 perché c'è anche in gioco l'emozione la stanchezza poi a un certo punto mentale soprattutto perché reggere partite di questo tipo non è facile io riporto l'esempio sempre con la Briantea appunto di due anni fa quando stavamo per vincere lo scudetto e ci mancava un punto lì c'era una tensione altissima e sicuramente per un giocatore l'ansia fa tanto della performance quindi là devi avere una concentrazione estrema ma anche un controllo bello e importante poi avrete anche un bel viaggetto da fare perché si giocano a Porto Torres le gare quel viaggetto ma da questo punto di vista probabilmente sotto tutti i punti di vista perché sono anche belle località anche se ovviamente voi andrete per giocare certo noi quando andiamo diciamo che arriviamo vediamo l'hotel vediamo il palazzetto quello perché andiamo per giocare però sì sarà una una bella subito una partita a parte che sono le finali di Coppa Italia quindi per forza subito due due partite belle belle toste loro hanno un quest'anno quest'anno Cantu ha un roster importante però noi non siamo da meno arriviamo lì e ce la giocheremo e questo è lo spirito giusto però prima si parla sempre di Sardegna però questa volta ha giocato in casa in casa Tabato alle 15.30 al Palacastrum questo match d'alta classifica che vale il primo posto questo è il programma oltre alla Micaccia Abruzzo contro Dinamo Sazzari riposerà Taranto e ci sarà la gara tra Treviso e Wilshere Sport Firenze intanto in questa settimana e lo chiedo al coach come preparerete questa gara ci saranno dei video da analizzare beh certamente sicuramente verrà più volte rivista la gara che abbiamo fatto la gara che abbiamo fatto all'andata e cercheremo in tutti i modi di ribaldare di ribaldare questo diciamo questo gap di intanto dobbiamo cercare di vincere la partita e più dovremmo vincere la partita di 20 è stato il gap che abbiamo avuto la partita andata la partita andata è stata una partita storta che partita più storta non può essere perché non entrava veramente nulla quella giornata in cui non ti entra nulla e poi anche i ragazzi entravano erano subito non ce n'è stato uno che è riuscito a dare quel qualcosa in più per diciamo riadrizzare la partita e quindi ci stiamo lavorando stiamo lavorando Carlo soprattutto anche adesso perché i ragazzi si stanno allenando sta provando sta provando delle cose che non gli sono piaciute nella gara di andata e ci proveremo in tutti i modi come tutte le partite ricordiamo che l'andata è finita 63 a 43 per la Dinamo Sassari ma ovviamente Micacci che ha tutte le carte in regola per provare a ribaltare questa situazione e prendersi il primo posto servire a grande concentrazione grande cattiveria agonistica mi rivolgo a Giulia in rappresentanza della squadra che poi andrà in campo assolutamente sì servirà tanta grinta tanta appunto forza ecco servirà tanta forza perché il risultato già è quello che superare un gap di 20 punti è molto difficile e non è semplice e se lì in poi non usi tutte le tue doti tutte le tue armi non ne vieni più a capo quindi noi dobbiamo entrare innanzitutto con la concentrazione e con la sicurezza che ci è mancato all'andata e poi si vedrà purtroppo è una partita che non si possono fare pronostici perché tutto è possibile in ogni partita tutto è possibile quindi vedremo soprattutto potete entrare in campo anche con la giusta spensieratezza che magari potrebbe aiutare perché poi come abbiamo visto il primo posto quello sicuramente come abbiamo visto e abbiamo parlato prima è sicuramente importante aiuta anche da un punto di vista del morale ma poi l'anno passato si è arrivato e l'off da terzi e vediamo come è andata quindi da questo punto di vista nella peggiore dei posi ci arrivate da secondi quindi sì sì questo è vero questo è vero però ecco certamente ti dà quella magari arrivare ai playoff da primo ti dà quella sicurezza in più e magari nell'incrocio puoi cercare di trovare un incrocio ma come dicevo come dicevo anche prima sia prendendo Bergamo che prendendo Reggio Calabria non è che andiamo a vincere sicuramente siamo sicuri di arrivare in semifinale devi vedere e devi lavorare per per quel roster che vai ad incontrare perché non sono sono tutte e due ottime squadre quest'anno ricordiamo poi che i playoff sono andate e ritorno per quanto riguarda i quarti di finale poi al meglio delle tre gare per semifinali e finali ma poi ovviamente anche con Fabio Talamonti che tornerà al comando già la prossima puntata ne avremo modo di parlare soprattutto perché anche da un punto di vista morale di acquisizione e della fiducia chiudendo al primo posto significa che avete vinto l'ultima gara di oltre 20 punti contro una di quelle che almeno in questa stagione sta dimostrando di essere ai vertici di questo campionato quindi una delle potenziali favorite per la conquista del Tricolore sì sicuramente loro sono favoriti come ecco le squadre favorite sono le prime quattro squadre del campionato dove ci siamo anche noi quelle che si andranno anche a sfidare le final foro di Coppa Italia non è detto perché ci può essere sempre una sorpresa quello che dico io sulla carta poi dopo sono sempre sono sempre da giocare tutte le partite di semifinale e poi vedere chi perde Dinamo Sassari in poche parole che tipo di avversario è? Eh Dinamo Sassari è un avversario come abbiamo visto all'andata è un avversario ostico perché ha un ottimo allenatore Foden che è un allenatore un allenatore inglese di scuola inglese e poi hanno un hanno l'ottimo Enrico Ghione Claudio Spano anche la batteria di giocatori che si è portato Foden dietro è un'ottima squadra ben assemblata con una buona panchina e come abbiamo visto ci ha messo molto in difficoltà all'andata magari noi ci può stare anche il viaggio adesso il fattore campo è a favore nostro però è sempre che dobbiamo giocare il fattore campo può incidere secondo me per un 5-10% poi per il resto la partita la fanno tutta quanta i giocatori quando entrano in campo e allora sfrutto l'assist siccome siamo a parlare di basket in carrozzino sfrutto l'assist di Andrea Corsi a Giulia Blasotti da Rade Camere tutta per te appello al pubblico di Giulianova per la gara di sabato allora innanzitutto lancio questo appello a tutta la città di Giulianova di venire sabato a vederci a sostenerci perché sarà una partita estremamente importante per la nostra squadra e sperando che anche con l'aiuto del pubblico riusciamo a portarci questa vittoria che sarebbe molto importante per il corso della nostra stagione di quest'anno quindi venite al Palacastrum e sosteneteci al meglio che potete perfetto grazie a Giulia ricordiamo sabato alle 15.30 Deco Metalferro Amicacci Abruzzo contro Dinamo Sassari in Paglio il primo posto del Girone B allora grazie Giulia Blasiotti grazie a voi grazie ad Andrea Accorsi vice allenatore grazie a voi e grazie a voi tutti che ci avete seguito grazie anche a Pietro Baldassare per l'ottimo contributo in regia grazie a voi tutti che ci avete seguito e Mondo Wilshire torna ovviamente martedì prossimo grazie e buona serata grazie a voi grazie a voi